Siamo qui con mister Polloni alla conclusione del match con il Belvedere. Mister, prima di tutto complimenti, non vi avevo mai visto, veramente squadra di categoria concreta, tanta fisicità davanti, siete partiti, almeno tre attaccanti veramente importanti come Torrente, Manganiello, Ciotola, gli inserimenti di Belli, ma anche chi è entrato dopo, Ermini, di andare veramente una squadra solida, con gente di esperienza e della buona gioventù. Sì, è stata secondo me una bella partita, tutte e due le squadre hanno cercato di risultato pieno, poi stava per venire nel momento in cui si pensava che fosse il pareggio abbiamo avuto la fortuna di fare il gol al novantesimo e chiaramente dopo è difficile poter riprendere la partita. Sì, il primo tempo meglio voi, soprattutto con Belli e Ciotola sugli esterni hanno messo in difficoltà gli opposti del Belvedere, come ho detto con mister Giallini, un Lenzini in mezzo al campo che dettava tempi. Il secondo tempo magari la rete a freddo subita da Aguazzini vi ha un po' rovinato i piani, vi siete un pochino abbassati, il Belvedere ha preso campo, ma avete retto botte, scusate un paio di situazioni, se no Giuntini non ha avuto grossi pericoli. Sì, non era assolutamente facile, gol a freddo nel secondo tempo, sicuramente di solito si perde certezze, tutto ciò che avevamo fatto di positivo nel primo tempo, invece ha dato una dimostrazione oggi della squadra di maturità perché ha saputo gestire il momento del Belvedere che è una grossa squadra, che è una grossa squadra, una squadra corretta e voglio fare complimenti a tutta la società che io non conoscevo perché c'è stata grande signorilità in campo, l'allenatore e tutti lo staff di loro, perché non è facile prendere una botta così e dare la mano e essere pronta a ricominciare dalla prossima settimana. Quindi veramente mi sono trovato di fronte a una squadra forte, sicuramente fino alla fine sarà a lottare per il campionato. Ecco, mi ha anticipato la domanda e le facevo dopo perché le dicevo, con questa vittoria c'è una prima minifuga con quattro punti di vantaggio da parte vostra e del San Miniato Basso di Mister Ticciati e quindi per lei non sarà a corsa a due. No, 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 assolutamente. Io poi non faccio programmi, non l'ho fatta all'inizio dell'anno e chiaramente non mi nascondo dietro a un dito. Insomma, noi siamo una squadra competitiva, però come siamo competitivi noi, io non conosco il San Miniato e ho visto il Belvedere e il Belvedere è una signora squadra. Un'ultima domanda le faccio prima di lasciarla andare perché purtroppo rimanete fuori dai nostri radar. Le operazioni di mercato hanno entrato in uscita, sono programmati qualcosa? State cercando qualcosa per integrare la rosa? Operazioni di mercato solo in uscita. Quindi abbiamo un giocatore che è andato via, abbiamo un giocatore purtroppo che si è fatto male in settimana e spero che non vada via nessun altro, sicuramente in entrata niente. Mister, io come tutti gli ospiti di Grossetto Sport al loro esordio le lascio un ultimo minuto, saluto, impressioni sul campionato, auguri di Natale in anticipo, quello che gli pare? No, mi piace tantissimo, anzi, incredibile, non avevo mai fatto da allenatore girone grossetano bello, seguo le emittenti private, date molto spazio al calcio dilettantistico e questo è bellissimo, sarebbe bello fosse così anche a Firenze. Io la ringrazio, allora facciamo sì, saremo ospiti al ritorno della Sestese se vuole. Sicuramente. La ringrazio, un bocca al lupo. La ringrazio, un bocca al lupo.